Buongiorno a tutti. Allora, prima nei video precedenti, o meglio, su Facebook, perché forse non ve l'ho detto, sicuramente non ve l'avevo detto, però prima della partita dell'Inter che è andata come è andata, comunque sono orgoglioso della mia squadra, ho guardicchiato la partita tra Frosinone e Como, o meglio, il mio amico mi ha mandato il messaggio, mi fa il Frosinone, il Como sta vincendo a Frosinone, ma che gol ha fatto Gliozzi. Mi sono ricordato che c'era il Como, però mi dovevo preparare per uscire per andare a vedere la partita eccetera e quindi sono riuscito a guardicchiare solo una mezz'ora del secondo tempo e devo dire che questo Como continua a sorprendere. Due settimane fa ha bloccato Lecce in casa, ma l'ha bloccato sull'1-1. La settimana scorsa, o meglio, tre giorni fa, oramai, quattro giorni fa, visto che siamo a giovedì, mi è andato a pareggiare ad Ascoli. Certo, se non ci fosse stata l'espulsione di Sank del giocatore dell'Ascoli, non lo so, non lo so se avrebbe pareggiato, però poi quando l'Ascoli è rimasto in dieci ha rischiato pure di vincere. E ieri nella gara con il Frosinone, golasso di Gliozzi, andate a vedere gli highlight di Frosinone e Como perché il gol di Gliozzi veramente è da stropicciarsi gli occhi perché dici come cacchio ho fatto a fare un gol del genere? Non è un colpo dello scorpione vero e proprio, però qualcosa di simile perché venirgli di fare una roba del genere, metterla all'angolino e ogni tanto Gliozzi ha questi colpi, poi mi prende 35 traverse, mi sbaglia a 250 gol, poi mi si inventa un gol del genere. E quindi il Como dopo aver sofferticchiato la prima mezz'ora, la mezz'ora più o meno si porta in vantaggio. Non fa in tempo a godere del vantaggio che Zampano in posizione regolare, piena area di rigore, un po' defilato sulla destra, leggermente rispetto alla porta e non troppo, gli arriva questo bel palloncino e lo piazza nell'angolino con un bel piattone dove Facchin non può arrivare, non è che può prenderle tutte sto ragazzo. Però poi arriva il gol di Ioannop, che è servito in area, bello libero come una Pasqua, infila sotto le gambe il portiere del Frosinone che riesce a toccarla ma la palla gli passa sotto le gambe, tocca la gamba, si impenna e va sotto l'incrocio. 2 a 1 Como alla fine del primo tempo, nella ripresa Paratine di Facchin, qualche errorino di troppo, poi l'ultima occasionissima al giocatore del Frosinone che praticamente arriva a questo pallone in area, lui è lì nell'area piccola, la controlla malissimo, voleva forse calciarla al volo, non so cosa voleva fare, gli rimbalza sul piede e Facchin è bravo a ghermirla prima che qualcun altro possa andare a prendere, ma lui praticamente bastava che la toccava dritto, invece l'ha toccata storta, era davanti, era così davanti alla porta, l'ha colpita per così e quindi la palla sarebbe quasi uscita però Facchin ha visto che c'era il compagno di squadra del Frosinone, del giocatore del Frosinone, stava per impossessarsene, l'ha presa lui, era proprio l'ultimissima occasione e poi si vede questo poverino del giocatore del Frosinone che comincia a picchiare contro la terra perché si rende conto di averla fatta grossa, cioè di aver mancato l'occasionissima per un possibile 2 a 2 che alla fine della fiera il Frosinone avrebbe meritato, ma visto come è andata la partita di andate in cui diciamo che il Como non meritava di perdere, hanno pareggiato i conti. Quindi tre punti pesanti per il Como, la classifica diciamo che per quanto riguarda, ma poi ne parleremo, rimane invariata per quanto riguarda la zona playoff, mentre invece si migliora un attimino per quanto riguarda la zona play out. Ma andiamo nelle statistiche di questa partita che il Como ha portato a casa, libidine, tiri in port, tiri, tiri, quindi tiri, non tiri nello specchio, tiri, 20 a 6 per il Frosinone. Quello che fa specie o comunque ti lascia un attimino basito sono i tiri all'interno di quel sette metri qualche cosa per 2,44 o 2,24 che dir si voglia della porta perché sono in perfetta parità, quattro per parte. Quindi è vero che il Frosinone ha tirato tre volte e qualche cosa di più del Como, però la porta non l'ha centrata mai praticamente, l'ha presa una volta su 20, di media è sì una volta su 5, il Como addirittura 2 su 3, quindi se si migliora un attimino a centrare lo specchio si migliora anche la situazione. Il possesso palla logicamente è nettamente a favore del Frosinone, 60-40, però ripeto, avendo vinto l'ultima mezz'ora della ripresa, non è che il Frosinone abbia fatto chissà che sì, un paio di parate di Facchin o Buon e tutto quanto, un po' di mischiettine in area ben salvate dalla difesa del Como che controllava, cercava di ripartire senza troppe velleità perché ogni volta che provavano a ripartire finivano sempre per non combinare la beata Giovanna, però riuscivano a allontanare un attimino la pressione, poi il Frosinone ora che ripartiva eccetera eccetera, il Como si rimetteva lì ordinato in difesa e devo dire che ha tenuto piuttosto bene. I corner naturalmente sono 9 a 2 per il Frosinone però, signori miei, this is football, devi segnare. Poi vabbè dopo il gol di Gliozzi devo dire che il Como ha meritato di vincere solo per il gol di Gliozzi, perché come gli è venuto in mente di fare una roba del genere, infatti quando ha segnato ha detto boh come ho fatto non lo so ma tanta roba. Comunque alla fine tre punti pesanti libidine per il Como che adesso andiamo a vedere la classifica, vi dicevo cambia poco perché il Como resta sempre un dicesimo, è lì, è undicesimo, la zona playoff è a 37, lui è a 31, la zona playoff è a 37, però a 37 punti ci sono ben tre squadre, Frosinone, Benevento e Perugia. Quindi con tre squadre che addirittura sono sesta e settima e ottava perché sono a pari merito, quindi vuol dire che il Como è a sei punti dall'ottava, a sei punti dalla settima e a sei punti dalla sesta. Quindi ne ha tre, che sono tutte e tre in zona playoff, a soli sei punti. La prossima è in casa col Cosenza e mi auguro che il Como sappia sfruttare questa occasione contro una squadra che è nei bassi fondi della classifica, terz'ultima o quart'ultima, quart'ultima è diciassettesima, 17, 18, 19, 20, quindi è quart'ultima, ha 19 punti, quindi il Como ha la grande occasione di fare tre punti pesanti e chissà che magari la prossima si trova a tre punti o a quattro punti dalla settima o dall'ottava. Zitto, zitto, cacchio, cacchio. Ripeto, come parlava oggi, un ragazzo oggi mi diceva tu non sei tifoso del Como, come fai a dire? Se il Como vince a Frosinone tutto può accadere. Gli ho detto il Como era undicesimo, dodicesimo, il Frosinone è settimo, gioca in casa, con l'Ascoli ci è andata bene perché nel primo tempo Facchino ha tenuto vivo il Como perché è stato un monologo dell'Ascoli il primo tempo, poi nella ripresa quando l'Ascoli è rimasto in dieci il Como è stato bravo a recuperare, pareggiare e rischiare anche di vincere, però finché erano undici contro undici e l'Ascoli, se non sbaglio, però magari correggetemi se sbaglio, era un attimino dietro al Frosinone, quindi se tanto mi dà tanto io guardo quello. Poi ripeto, tanta roba che il Como abbia vinto col Frosinone, sono ben felice di ciò, è undicesimo, quindi è in una posizione abbastanza tranquilla, con vista playoff e con i playoff che intanto si sono spostati a otto punti. E ripeto, il Como è una neopromossa dalla Lega Pro, l'ultima volta che è tornata in Serie B è ritornata subito in Lega Pro e purtroppo ci è rimasta fino a quest'anno, quindi tutto quello che viene è di guadagnato, anche se dovesse finire undicesimo al campionato, va benissimo, però finché c'è la vista playoff lì e magari riesce anche ad arrivarci, non è che gli possa fare schifo, poi da qui a dire che andiamo in Serie A ce ne vuole, anche perché comunque non credo che andare in Serie A troppo presto sia molto conveniente. Penso che il Como voglia piano piano preparare tutto un programmino per puntare alla promozione e soprattutto per poi rimanere in Serie A, non per fare toccate fuga, toccate fuga, toccate fuga, perché ripeto il Como in Serie A c'è stato e ha sempre fatto delle belle figure, dai non è che faceva delle pessime figure. Quest'anno pare che forse sia la volta buona per la Cremonese che adesso in questo momento e prima ha beffato sia il Lecce che il Brescia e si è posta, no, sia il Pisa che il Lecce, poi il Brescia è lì anche lui, Pisa-Lecce, Brescia, sono tutte lì, però c'è la Cremonese che si è posta al primo posto perché il Lecce e il Pisa hanno pareggiato tutte e due. Vabbè, ma tanto sono squadre che per il momento sono la sua e al Como non interessano, il Como deve guardare a Perugia, Benevento, Frosinone, Ascoli, squadre così e cercare di recuperare piano piano e vedere se con un po' di fortuna o che cosa si possa magari provare a fare dei play-off che danno morale, poi dopo ci partecipi e come va là. Detto questo ragazzoli, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Como che sta facendo veramente una gran bella figura in Serie B e ci vediamo alla prossima. Ciao!